Il rapporto ha questo enorme punto negativo, che è quello dei giovani tra i 15 e i 34 anni, circa 38.000 occupati in meno del periodo precedente alla crisi, ma se andiamo a guardare più analiticamente il dato, il dato è ancora più grave perché in questo periodo ci sono stati 20.000 persone adulte in più occupate, che vuol dire che quindi il gap è di circa di oltre 50.000 persone. A fronte di un Abruzzo che sta uscendo dalla crisi in modo non forte, ma costante, l'inserimento nel mondo del lavoro dei giovani scende drammaticamente. Sono questi alcuni dei macrodati illustrati nel rapporto annuale del 2015 del Cresa, il centro di ricerca economico e sociale abruzzese. Il settore trasporti ed elettronica, che contribuiscono al PIL e all'export, sono quelli trainanti della regione. Il settore tessile e l'abbigliamento sono in recupero. L'alimentare mantiene e si sviluppa. Il settore delle costruzioni si sta riprendendo, soprattutto nella nuova visione di riqualificazione del territorio. Occupare il nuovo territorio, ma ricostruendo sul già costruito, riqualificando, facendo risparmio energetico. E a mio giudizio su questo ci vuole una riflessione importante che va fatta a livello regionale per trovare una via condivisa da portare avanti. I dati economici della regione Abruzzo rispecchiano comunque il trend nazionale. Lo Svimez è uscito l'altro giorno con dei dati probabilmente troppo ottimistici e si andranno a stabilizzare a breve. L'ipotesi più probabile è che ci sia stato un aumento del prodotto interno all'ordine Abruzzo dell'1%, a fronte però di una diminuzione del 2% dell'anno precedente, quindi un cambiamento sostanziale di marcia. Sono dati che però dovranno essere confermati nel momento in cui escono i dati ISTAT che saranno i dati certi e definitivi.